Ciao bello a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video e qui davanti abbiamo la nuova skin di Bull dedicata a Clash Royale Prima Bombardino, ora Bull, perché la Supercell confie 10 anni E' anche abbastanza bello Poi qui c'è il Brawl Pass, io ho il pass gratuito però c'è anche il Brawl Pass Però per averlo bisogna spedere 170 gemme E se vuoi le doppie ricompense 250 E inoltre ci sono anche le missioni da fare con i Brawler In solo 17 ore e 3-2 minuti infatti devo vincere 6 partite con Stecca Vincere 6 partite nella fa gemme E completare un livello in ride E se vi chiedete che fine hanno fatto i ticket Eeeh...hanno convertito i ticket in gemme Per questo ho 101 101 gemme Si l'altra volta ne avevo solo 61 Me ne hanno lasciate di 40 Più 10 del pass gratuito quindi... Hehehe Potrei già comprarmi una skin però prima di tutto devo fare una scelta giusta Quelli che intanto ci sono qui non è che mi ispirano Perché non te ne costano troppo Fate questa skin quanto è bella Vi accontento Faccio solo una partita In eeeh... In football con Bull Oppure il gadget Pure la skin gratuita Lo sai cosa direi a Cesar e a LQ come prossimo video? Qua è il migliore Brawler Con le skin che Brawl Stars si ha dato gratuitamente Cioè stecca conto Bull Però non sarebbe un gran bello scontro Inoltre c'è anche la vecchia musica di Brawl Stars E questo mi rende molto felice Ma andiamo avanti A provare questa nuova skin Oh! Ben giusto Dai! Lasciamo vedere a questo Oh li stiamo devastando Oh! Guarda! Guarda la super! L'hai visto? Mette va avanti Con la super! Mette pure la spada! Fa pure condito la spada! Oh il resto mette qui la spada! Wow! Bello! Inoltre hanno cambiato anche la posizione di Mortis Voi non ve ne accorgerete ma io me ne accorgo e come! Perché so tutto! Fin da quando c'è la spada! Ragionamento di 8-bit Ah! Giusto! Beh tanto non la vol fanno gli altri Bravo! Frank! Bravo! Poi c'ho anche il guard che sto pronto Possiamo fare un sacco di danni Volevi piccolo così Non volevi Dai! Adesso faccio un gol io! Ah! Oh! Bravi sti compagni! Bravi! Oh! Sono pure il migliore! Niente va all'animazione di queste skin Dai! Forse... Solo un'altra partita Per... Però... In sopravvivenza E' arrivato anche Domino Dominio Ora... Oh! Guarda! Proprio quello di cui stavo parlando Skinny Sega Che mi ha dato gratuitamente la Supercell Forse faccio... Forse io sono... Sono un brawler che fa la vicino Giusto! Oh! Ciao Mr. Po! Mr. Po! Dai no! Questo mi devasta! Dai no! Lasciami stare! Lasciami stare! Ti ho detto! Lasciami... Stare! Guarda! Io li odo quelli... I pusciatori Li odio! I pusciatori! I pusciatori! Rifacciamo! Sì! Almeno... Nella... Top 3! Cioè... La Top 5! Visto... Quanto faccio... Visto che fino da lì si fanno coppe! Cioè praticamente quella di Bull È come una pistola normale Però in mezzo c'è una lama Oh Ehi piccolo Grazie mille Nabi Io non uso il gadget Perché tanto mi calco subito la vita Oh Bull va anche più veloce adesso Io prima andavo Lo vedo che andava più veloce Non so voi Qui c'è qualcuno No nessuno Ah Cold Ci c'era qualcuno scamperato da qualche parte No Ci sembra essere nessuno E poi guarda quando spara Fa quel segno guarda Fico Da soldi fa così anche Sakura Spike Ok Non c'è nessuno scamperato Senso che c'è qualcuno scamperato Le vicinate Il problema è che non lo trovo Tu sei qui Oh No No Oh c'è un altro Bull Ehi piccolo amico Ehi cugino Vieni qui Fate uccidere Oppure potrei uccidere quel Barrol Dai Barrol Vieni qui Grazie mille Ehi amico Quando vuoi uscire fuori da lì Atimente ci muoio di tutta Non va bene Cosa 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 E adesso vince Cold How is possible Boh vabbè Oh io Io ho fatto perdere solo più coppe Ma va bene Oh come si stecca per sbaglio E adesso andiamo a provare Tra poco arriveranno Pure Giusto Tra poco arriveranno pure le nuove skin E la prima sarà Mortis Predone Poi ricordi Poi c'è quella di stecca Che il mio voto è 6 su 10 Poi c'è Eugenio Cattivo E inoltre la skin esclusiva di Del nuovo Brawler Ovvero Gelindo A volte dovete sapere Che la Blossal Che la Supercell con Blossal Fa dei giochi di parole Con i nomi dei personaggi E primo significa il cugino Mortis In latino significa morto E Gelindo appunto Perché è un nome E Gelido Che significa anche freddo Ora andiamo a provare subito Il nuovo Brawler Andiamo Bello Niente male Ma tanto danno Ah beh Lo se lo metti tutti insieme Prima faceva 1080 no? Ah ecco Da vicino fa 1080 Difende E questa invece è la Super Non vedo l'ora di provare L'interno a voi Ha fatto solo 100 di danno Ma va bene Boh Fa solo 100 di danno Quindi non è un Anche Beh D'altronde dopo Divente Per il momento Trovare questo Brawler È come trovare un leggendare Poi nel prossimo Diventerà Diventerà un epico Scusa un mitico E dopo Diventerà un epico Beh Niente male Gelindo Adesso sto pure Ravorando Per fare I mini personaggino Lego Che vedete Nel prossimo video E adesso vi faccio Delle modifiche Di Mortis Guardate Voi non capirete E questo Non è l'unico Brawler Perché ovviamente Ce n'è un secondo Cioè Il mix Tra Tastecca E Sprout Cioè Semino Però inoltre La skilli Semino È fichissima Non voi Non immaginate Quanto è Fica E inoltre Hanno fatto Un remodel Di Pam Oh Se ci vinco Oh Voi volete Che fa Come prossimo video Volete che faccia Quella Compilation Dei Momenti Fortunati 4 Scrivete Nei commenti Ora direi Di andare A giocare A dominio Che non facevo Da tanto tempo Vediamo Sì Sto caricando Sto caricatore Faschirico Ok Non sta più caricando Ricordarti Prendere un caricatore Decente Oh ma siamo Oh ma siamo pari Uno con uno E poi se il caricatore Non Non carica Nemmeno Sto caricando A volte Sì A volte No Tanto Tanto vinciamo Noi Oh no You don't No Dobbiamo Vincerci Non voglio Perdere La prima partita Con Pam E non mi carica Mai Sto caricatore Ma ma dove Ma ma dove Oh no You don't Uccidete un piccolino Guarda Che la pure Lì pronto E l'ho lasciato Sì Che non mi carica Mai Però Ho capito Se voi attaccate noi Allora noi Attacchiamo voi E guarda Non ci Non ce ne importa Un bel niente Non ce ne importa Un bel niente Guarda Così imparate Imparate Dal danno No Non possiamo Perderci Di poco No 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 Ci perdiamo Abbiamo Perto Abbiamo Totalmente Perto Oh ma cosa Dove Oh Sta guerra È tiratissima Sta guerra È tiratissima Ci perdiamo Perché è sempre Fermato 98 Oh Cosa Dove Lo sapevo Lo sapevo Oh finalmente mi carica Boh Ah va bene Abbiamo perso Chi vi devo dire Può capitare Prossimamente Arriveranno Le skin E il mio video Con i lego Però Per adesso Direi Che È tutto E ci vediamo A un prossimo video Ciao